Sono qui in Piazza Corsica, in questa meravigliosa città di Catania che ha accolto il tour del popolo della famiglia per presentare il nostro movimento. Sfoglio i giornali e trovo questa notizia incredibile del baregliere catanese che uccideva per 300 euro i malati che trasportava in ambulanza. La valore della vita adesso è questo. Grazie alla cultura di Emma Bonino, di Marco Cappato, di chi dice che un malato non vale niente e va ucciso per fame e per sete, giustamente qualcuno pensa che a questo punto ci può fare i soldi sopra. 300 euro per una vita, questo vale una vita grazie alla cultura portata avanti da Emma Bonino e Marco Cappato. Ha praticato l'eutanasia quel baregliere, l'ha praticata su malati, l'ha praticata come eutanasia attiva, e ci ha guadagnato sopra perché l'eutanasia è solo mercato e soldi. Se lo ricordino Emma Bonino, Marco Cappato e tutti i fomentatori della cultura di morte di questo paese.